Il lavoro, priorità assoluta nell'agenda del governo ma anche in quella degli enti locali. La sesta provincia, in particolare l'assessorato alle attività produttive, mette in campo una proposta progettuale a favore di interventi in materia di politiche giovanili. Il fine è quello di intervenire sulla occupabilità dei giovani da 18 a 30 anni. Un progetto che si rivolge a 20 giovani ma l'obiettivo è ben più ampio. Noi non vogliamo creare 20 posti di lavoro, noi vogliamo moltiplicare le 20 idee progettuali. Proprio per questo pensiamo e speriamo che molti giovani vogliano mettersi in pista. Dobbiamo pensare ad un nuovo percorso per i nostri giovani, un percorso che parte in primo luogo da un orientamento forse più attento a quelle che sono le esigenze di lavoro del territorio. Quindi molto più verso l'artigianato, molto più verso l'ambiente, molto più verso l'energia, che sono dei settori che chiedono molte specializzazioni. Il progetto prevede quattro mesi di stagio in azienda e l'acquisizione delle competenze necessarie per comprendere il funzionamento, le dinamiche, i meccanismi che sottendono all'attività imprenditoriale fino ad arrivare alla redazione di un business plan. Partner della provincia sono l'Università degli Studi di Bari, la Confcommercio e la Banca di Credito Cooperativo di Andria. Un orientamento migliore e poi la possibilità di creare imprese nuove, innovative, con idee progettuali all'avanguardia. Questo è il futuro. Noi non possiamo pensare di andare alla ricerca di un posto di lavoro fisso perché il posto di lavoro fisso ormai non è più una garanzia per nessuno.